Musica 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 Che dove incontrarla? 3 3 ma non voglio Qui c'è la tanica Eh io non so come dare fuoco Ah come sarà Oddio Ah posso buttarci il coso adesso però ci serve Per accendere No credo che sia già Ah no Dobbiamo prendere del fuoco Le candele Le candele Non me le fa prendere le candele Allora aspetta vediamo se io tutto questa magari mi fa prendere la candela No Aspetta che mi devo mettere di nuovo comandi Anche lei padre Un'accendina non ce l'ha Oh E' sempre stata questa cosa? No non me lo fa prendere Ci sono delle candele Peraltro dei geni Candele vicino a un mucchio di paglia E anche questo mi fa prendere Ah ci siamo Questo è tutto ciò che i guardiani hanno sempre sperato E' quasi ora di sacrificare le capre Ora devo farlo io per coinvolgere altre persone Oh Potrebbe spezzarmi le gane con As Ok ne ho ucciso uno Ne ho ucciso uno Come ne ho ucciso uno? E mentre tu leggevi c'era un demone strisciante per terra Con la torcia UV Sono riuscito a ucciderlo Però mi piacerebbe capire come accendere qua Eeeh Provo a tornare dove c'è la cosa Aspetta 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 Voglio butto il medikit Non mi fa interagire con le candele che ci sono qua Provo a tornare dove c'è il barile che brucia E vengo con te Albero non mi piace che si muove da solo E' un po' di vento pigliolo Io non sento vento sui miei capelli Perché ce li hai corti Ah qui c'è un altro medikit per ricordarci Qua Eh si si Sono perfettamente d'accordo Ma non è che devo prendere il Il coso Eh ma non ti fa Non mi fa interagire Provo a lasciare anche No non mi fa Secondo me dobbiamo trovare qualcosa in casa che ci permette di Accendere Allora facciamo una cosa Intanto prendo un po' di paglia Io ho un altro medikit nel caso Sì si fai bene Allora vediamo Come ho detto Ah vedi che c'è il simbolo No c'è il simbolo della paglia Alla su in alto vuol dire che ho la paglia Molto bene Allora io direi Secondo me dobbiamo trovare qualcosa in casa che ci permetta di accendere il fuoco Dei fiammiferi Allora io ho un po' di Ho un po' di fieno Vediamo se attiriamo altre belle caprette Eh via Ah Bravo puntagli l'UAB Dovrebbe bruciare dopo un po' Eh non brucia Eccolo Ecco devo essere più vicino Minchia che bello quelli che saltano fuoco Questo l'avevamo già letto Eh figliolo io penso che dobbiamo andare lì Beh ti ricordi dove abbiamo visto la prima rosa? La prima rosa doveva essere qui davanti Ecco O qui Dove siamo saliti Ah no aspetta la prima Eh sì Eh ciao La vedi? No? Non la vedo Perché dovevi vederla? Perché era proprio qui vicino Prima di entrare era Prima di entrare Bene ma sono persa Molto bene Sono contento Allora Come dire Ho la Il fieno E poi lo metterai dentro E richiamare Qualcosa per accendere il fuoco Le cappette che ti fanno ciao Di solito Dove Dove tengono le cose per accendere il fuoco? In cucina In cucina In cucina però Pugniamo a domande Vedo niente E in effetti non siamo caduti su Non vorrei che ci fossimo persi qualcosa Qualcosa Sotto? Ce l'hai i medikit vero? Sì sì ce l'ho Allora Qua l'abbiamo già aperta Ci eravamo già stati Sempre candele Allora togliamo fuori Queste candele qua Apro qua a destra Vedete un altro Cazzo di Che so Quante stanze ha sta casa Non ti vedo più Come non mi vedi più? Sì sì ti vedo C'è l'altro medikit lì eh Sì Io ce l'ho già uno Ne posso prendere uno solo No 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 Perchè Si da mai Allora Guardo qua Guardo qua No Diretto Andiamo indietro Dove ho visto l'ultima La nasciura Eccola Cruciato Qui sulla sedia c'è un altro medikit eh La sedia appena fuori da qui Qui non c'è niente che ci permetta di accendere il fuoco No Infatti In mondo mia stessa Le stanze sono abbastanza C'è un'altra lettera? No questa l'abbiamo già vista Siamo che temano la russa Ok sì Per questo che la luce UV Ah giusto L'asciura ce la siamo beccata sopra Era sopra E a questo punto dobbiamo per forza andare Aspetta qua non ci siamo ancora stati credo Da qui siamo entrati Ah sì Secondo me in questa stanza non ci siamo stati ancora Questa stanza rossa qua Che non è inquietante a questa stanza Di più No no infatti Cos'è? In circolpedia di botanica In circolpedia di botanica e c'è un buco in ogni stanza Cosa? 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 Qua? Oh una rosa qua c'è Ah grazie 9 di 25 10 di 25 Allora Il fieno ce l'ho in mano ma Penso che il fieno ci serve nel momento che becchiamo una capra Ah Dobbiamo Ah questa era la biblioteca Questa è la biblioteca Giusto E Secondo me dobbiamo trovare qualcosa che ci faccia accendere il fuoco Ah sì? Fandò un po' sta libreria Ti sembra sospetta Quasi che si vuota Quasi che si possa spostare Già Eh? Che cosa? Ehi dove? Giù Giù? Dio po' Bonino E perché ci siamo avvicinati o perché abbiamo? Si è aperta la porta L'hai aperta a te? Si l'ho aperta io ovviamente però ci stai dietro vero? Cioè il kit è sempre vero? Ok A destra nulla Non gli è piaciuto che abbiamo aperto questa porta? Benissimo Non lo so Secondo me eravamo vicini a quella porta della biblioteca e... Che palle tutte queste stanze! Quanto cazzo pagano dici? I cassetti non si possono aprire vero? Eh ho provato ma non... Ma possibile che non c'è qualcosa per accendere? Oddio un altro piano! C'è un'altra scale! Aspetta! Abbiamo saltato questa stanza! Io sento un respiro! Io sento un respiro! Mugolare troppo! Eh si è un mugolio! Eccola! 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 Ok! C'è una mazza! C'è una mazza! C'è niente! No! Nel senso non c'è niente! Nell'armadio! Cabina armadio! Vediamo! Non c'è niente! Ah questo è il bagno! Un'altra chiave! Un gatto! Pecola! No una pecola! Buttala! Buttala! No! Dov'è? E' scappata qui e qui fuori! Buttala! 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 Buttala il sieno per terra! Sì sì! Sta arrivando! Sta arrivando! E dobbiamo portarla fuori per la bestia! Eh sì! Dopo che... No! Aspetta! Mettigliela un po' più vicino! No! Forse l'ha vista! Io la sento mugolare ancora fuori la... Eh vuoi dire che ci facciamo una bella corsa! Corri! 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 Salva! Mettiamelo tu! Ma sembra ovunque! Occhio! Davanti! 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 Minchia! C'ho il battito del cuore a mille! Ma mi segue! Oh dai! Voi vicino a voi! Voi vicino a voi! Voi vicino a voi! Ma io la sento! E anch'io la sento! Eh! Va! Ma... Ma il battito del mio cuore è... Non lo si sta seguendo ancora! Porco dio! che sei più sfigato è perché si incatta quando prendiamo le pepe perché adesso ti porta sotto e vuoi saperlo anch'io è solo che ci siamo persi una cosa una capra una capra vieni verso di me vieni verso di me inquietudine quello che non mi faccio salire ah no sto salendo no non sto salendo sì sto salendo aspetta che guardo che non ci siano uno di... no fammi andare da vicino che c'è un medico ma tanto non lo puoi usare tu solo 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 per stare distante fermo l'asciura sto curando ok grazie ho preso un altro medikit oh tu fai da vittima sacrificare a sto fai prendere allora fammi prendere un altro con un'altra pagliuzza allora dunque l'asciura è giù noi andiamo su adesso è giù si no cazzo siamo di buona nella sala videogiochi no no dobbiamo passare di qua eh sì sì qua qua c'è un altro medikit ricordiamoci mhm che cazzo eh cucina ah ma vaffanculo brucia bastardo brucia ok allora eravamo qua sopra c'è un'altra rosa davanti a te ah grazie 15 ma ci sono troppe istanze uno si perde oddio ecco questa non la volevo vedere c'è una sedia dondolo che dondola sola beh è una sedia che dondola dovrebbe sì una sedia a dondola dovrebbe dondolare c'è un altro medikit nella sedia dove c'è nella stanza del eh ma io ho già la cosa la pagliuzza mi piacerebbe capire la chiave della chiave della chiave della chiave degli ospiti c'è niente problema questa che provo a guardare io se ce l'ho la stanza dei bambini inquietudine ragazzi come si vede neanche lo spesco ho la chiave del sotterraneo e della biblioteca dove sei andato? eh sala svago sono qua ho un attimo a vedere se apri questa ah com'è che si fa già a file delay no cazzo il oddio come si chiama qualcosa dove fai ripire quello che hai dietro il è l'unica con la k l'inventario l'unica è la k ma hai solo le chiavi io ho gabbia bagno padronale e si è infatti bagno padronale bagno condiviso gabbia della soffitta perciò c'è una gabbia in soffitta allora io sti cazzo di cose non le becco camera degli ospiti no camera degli ospiti no questo è un bagno oh 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 bastarda bastarda vieni qua faccia di merda ecco perchè ci sono i buchi perchè possono viaggiare ovunque eh ma si c'è qualcosa guarda qui fuori si guarda qua sulla vasca è una batteria è già una batteria ragazzo non lo faccio possiamo prendere solo un premier per usare la pira cosa faccio con la pira ah per la torcia ah tu dici che si consuma dopo un po' che bello che bello che è su di morale la cosa eh decisamente e anche qui io provo a buttare la pagliuzza e qui fuori e qui sta arrivando no buttagliala un po' più vicino appena fuori dalla porta appena fuori dalla porta appena fuori dalla porta appena fuori dalla porta non è capace a tirare questo ecco sta arrivando ma se tu spegni la torcia non si vede niente in pratica ci dovremmo fare un po' di risparmio energetico allora la prendo io e provo vai le micchie sono le scale ah faccio io devo fare il giro però si corre con una certa snellezza ti devo rendere merito sono Girobato di Dragon Ball lì scusera come si chiamava e adesso G no 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 ma che cazzo ma questa le lancia veramente di merda che ultimo tu usci un po' di capino tallo quello ok c'è la panica in mano no prendi la panica è nella stalla in dentro ho preso la pecora ho preso la pecora la riporto qua si tu dici la panica ah no ma sai cosa dobbiamo bruciarle una per volta ecco molto bene per questo che non c'è bisogno di una tanica c'è bisogno di una tanica qua la trovare una tanica la tanica ce n'era una qui vicino perché mi sembra di non esserci mai stato da ste parti qui qui ce n'è una tanica io ho la pecora riesci a prendere tu la tanica dove sei vedo la luce sento le voci qui c'è la tanica però torniamo sempre lì dobbiamo trovare qualcosa per accendere inneschi ah no se fa così se no che non so quale sia il tasto ho visto un altro video ok 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 e c'è la ah devo tornare per muto ecco perché ah per tanto tempo si ah una di 10 appunto dove dove chi? e sei incazzata? ah quando dovrebbe calmarla? eh me la vorrei che dovrebbe calmarla allora io ho un'altra pecora hai un'altra tanica? eh vado a prendere la tanica ah aiuto 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 ui Anna richiede più barcollamenti per cammarsi man mano che rituale procede quando Anna ha gli occhi rossi la luce UV non funziona ah capito però io come faccio quella la tanica? eh? io ho messo un'altra pecora ho messo un'altra pecora ho messo un'altra pecora grande c'è qualcosa che ti che mi? sento un rumore no siamo noi che possiamo ah dove? a noi ci serve una tanica per bruciare l'altra ma come qua posso passare in mezzo agli alberi? senti Andy visto che le taniche ci servono qua eh se iniziamo adesso che magari non c'è la dama Cassamarroni se iniziamo a raccoglierle lì sai che non ha i puntotti è una buona idea aspetta che si sta ancora allontanando la la donna in rozzo qua beh ma se noi passiamo di qua sono a posto no? direi di si ah corre corre tanica aspetta che ci cerco di più una tanica se le spostiamo le riusciamo a mettere e le lasciamo tutte lì vicino Dio Massi dove sei? eh sono vicino alla... ah guarda ho trovato un'altra tanica vengo verso di te aspettami lì che arrivo ah ok ti vedo andiamo ok andiamo oh no 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 cosa? over here c'era la dama rossa che era lì proprio lì ah che culo allora io lascio una tanica qui anch'io eh no una la dobbiamo usare ok scusa ok ci sono buttata lì 5 4 3 2 1 boom 2 2 dove? adesso si incatterà di nuovo di nuovo però non la vedo si sì ho visto un movimento laggiù in fondo davanti? no nato oh Allora, una tannica è qua. Non andare avanti, aspetta che guardo se c'è qualcosa qua. Hai notato? Si sono accesi i teschi. Ah, i teschi, è vero. Due di dieci. Allora, dai, proviamo a cercare delle altre tanniche prima di cercare un'altra capra. Un corto. Capra, capra, capra. C'è una specie di gabbia. Ce n'era qualcuna qui sotto? Ah, mica sei tu. Mi hai fatto cagare addosso. Ti vedevo di spalle. Era sotto? Eh, non lo so, io lo so. Ho provato... Occhio. Oltravoce. Guardate, 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 guardate. Ma via! No, non funziona, hai occhi rossi. Ah, non funziona, hai occhi rossi. Ah, è bellissima. Si sta trascinando come se fosse un nenzuolo. Poi piano piano riesce a uscire fuori. Nel frattempo cerco un mediki. Appena finisce la modalità straccio della polvere. Ok, ho trovato un mediki. Io sto uscendo. Ti sono dietro. Non riuscivo a capire cosa fosse. Fermo, fermo, che ti tiro su. Ok. Grazie. Sotto. Sotto? No, aspetta, qui c'era... C'erano delle tanniche anche appena entrati qua. Che non mi ricordo male. Sei in cucina. Merda, merda, merda. Sei dentro? Si, è dentro lì. No, tu sei dentro. Si, sono dentro a cercare delle tanniche. Ah, eccola qui, una tannica. La porto fuori. Eh, è laggiù. Sì, è così pericoloso. No, 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 no. No, la porto fuori. Ah, ecco, c'è che a scattare. Ah! Di che, tu hai due. Come due? No, ma merda. Ti ha preso. sono due demoni e mi ha preso arrivo Andy poso la panica mi sto riprendendo dallo shock e poi in questa modalità ci vedo meglio ah ma sai che mi fa anche vedere attraverso le pareti dove sono i medikit e le taniche e vedi i medikit e le taniche? si le vedo tutte o meglio le vedo tutti i medikit vieni qua vieni qua è arrivato ad una certa distanza riesco a vederli tutti ok aspetta che prendo un medici spero che ce ne siano infiniti perché se continua così che fatti ma tu dai no 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 infatti 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 aspetta to'na indietro io ti sto vedendo no to'na indietro to'na indietro seguendo che io cazzo devi venire verso di me allora ce n'è una in questa stanza ce l'ho il medikit vieni verso di me ma è una tanica è una tanica c'è anche una tanica lì perché devo sfruttare questa modalità c'è una tanica vieni giù che magari ho tempo di tirarti su aspetta non mi curerai ancora devo capire se ci sono altre taniche qua sì qua c'era qualcosa l'avevo vista no non c'è nulla ce n'è una qua qui vicino a me dove sono io qua ah sì perché non me la faceva vedere ok qui è un po' ma devo tenere premuto sì ok allora questa la prendo io aspetta che guardo se c'era un'altra mi sembra che ce ne fosse più di una qua no forse in questa porta no qua non ce n'è ah qui c'è un'altra chiave però da la svago e qui c'è una batteria avevamo trovato una batteria sopra e una batteria qua nel caso in cui ci servisse non riesco a prenderla no non si può ma qua sono anche altri ma no si può prenderla sì ma lasci la tanica puoi portare solo un oggetto per volta eh lo so eh sì perché giustamente la temana è impegnata con la pila ok direi di portare io una tanica tu ce l'hai? no aspetta che vedo se ne trovo una qua fuori qui non devo entrare dentro di nuovo qui fuori ci sono due medikit ancora ah ma dai tu stai andando a portare la tanica? ma se vuoi vado se no ti do manforte no prova proviamo così inizia a portarla tu facciamo la staffetta facciamo la staffetta sì almeno proviamo a ottimizzare un po' i tempi uh c'è un'altra rosa qua che cazzo dov'è la rosa? ah io ho trovato la tanica che cazzo? se vedi arrivo io vedo la tua luce vedo la luce qui nell'angolino lì c'è la rosa l'hai vista? sì ma non me la fa devi abbassarti no non doveva abbassarmi dovevo mollare la tanica per un attimo allora usciamo portiamo le due taniche vedete che è abbastanza realistico come gioco super ottima foto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti